Salve a tutti, benvenuti al corso completo di base ed intermedio di Adobe Premiere Pro CC 2019. Feci tanti anni fa un tutorial sulla versione CS6, quindi ho deciso di rifare un altro corso completo, questa volta sul CC. Programma che conosco ormai benissimo, lo uso giornalmente per fare tantissimi tipi di video. Allora innanzitutto prima di proseguire sappiate che in questa playlist potete trovare decine, decine e decine di tutorial di questo programma sulle singole funzionalità, su certi tipi di effetti, su alcuni trucchetti, quindi tutto quello che non dico qui potrete trovarlo anche in tanti dei miei video di questa playlist. Iniziamo subito, in questa parte ci dedichiamo un po' all'interfaccia, quindi cominciamo a familiarizzare. Non vi preoccupate se non avete mai utilizzato un programma di montaggio perché cercherò di parlare nel modo più semplice possibile. Poi in descrizione, in ogni parte, troverete il link alla prima parte e alla parte successiva quando sarà disponibile. Iniziamo subito. Allora facciamo file nuovo, progetto e vediamo come si crea un nuovo progetto, anzi chiudo il programma e lo riapro così vediamo la schermata iniziale. Ecco qua, questa è la schermata iniziale di Adobe Premiere Pro CC 2019. Qua ci mostra i progetti recenti che possiamo richiamare con un click, possiamo anche cercarli qui con il filtra. Possiamo aprire un progetto, quindi aprire lo sfoglio, oppure fare nuovo progetto. Quindi vediamo subito questo nuovo progetto. Allora innanzitutto ci chiede la posizione, di dove salvare il progetto, il titolo, noi lo chiamiamo tutorial. E poi altre cose, allora rendering, accelerazione, GPU, CUDA, che io consiglio se ce l'abbiamo. Poi facciamo ok. Ed ecco il nuovo progetto. Allora, la cosa che vi consiglio caldamente è quella di importare da subito i filmati multimediali e di trascinare il filmato direttamente sulla timeline, così che Premiere possa prendere le impostazioni del progetto e farle aderire al primo filmato che voi importate nella clip. Altrimenti dobbiamo creare prima una sequenza e dargli noi la risoluzione e tutte le varie impostazioni. Facendo tasto destro qui, facciamo nuovo elemento, sequenza, e lui ci chiede appunto le impostazioni. Quindi in questo caso facciamo conto, noi non vogliamo inserire un filmato, quindi vediamo un po' cosa possiamo scegliere. Allora abbiamo questi preset, HDV 1080p 30 ad esempio. 1080p sarebbe la risoluzione, 24, 25 e 30 sarebbero gli FPS, ovvero i frame per secondo, come scritto anche qua a destra. Quindi ne scegliamo uno che sia anche più vicino possibile alle nostre esigenze, andiamo in impostazioni e andiamo anche a cambiare quello che non va bene. Qui in questo caso abbiamo, vediamo un po', 30 fps, 29, 97, ok, 1080, qui però non si può cambiare, quindi attenzione. Andiamo qui e facciamo personale, ok. Quindi qui ci assicuriamo che le dimensioni fotogramma siano adatte, quindi andiamo qui e mettiamo ad esempio 1920 che è tipico e qua 1080, bene. Proporzioni pixel, va benissimo, pixel quadrati 1.0, io uso questo. Scansione progressiva perché è P, qui va bene, con gli FPS, se no li cambiate, fotogrammi. Quindi formato visualizzazione, codice di tempo, va benissimo. La base temporale qua ovviamente non l'ho detto, 29, 97, possiamo anche mettere 30 tondi. Oppure se voi state registrando con una reflex, non so, a 24 fps, allora scegliete questo, 24 fps. Perché non si guadagnano fps, quindi se ne avete 24 non mettete 50 perché è inutile. Mettete quelli della vostra videocamera, quindi 24, 1920, 1080p. Questa è la anteprima video, la risoluzione dell'anteprima video, va bene così. E qua gli diamo nome della sequenza, quindi la sequenza la possiamo chiamare prova. Possiamo, attenzione, prima di fare ok, salvare questo preset come predefinito. Facciamo clic così e mettiamo tutorial ad esempio. Ok. Ed ecco qua. Adesso in predefiniti sequenza, aspettiamo che carichi tutto, in personale troviamo anche tutorial. Quindi ricordatevi, lo dico ancora una volta, scegliete uno dei preset, anche questo, andate in impostazioni, fate tutte le varie modifiche e poi fate salva predefinito per avere qua predefiniti sequenza. Ora, tutto quello che vi ho detto può essere utile, certo, però può essere saltato se voi importate un video qua come prima clip e poi lo trascinate in timeline. Guardate, questa è la sequenza che abbiamo creato, 1080p, 24 fps. Io la cancello con il tasto del cance della tastiera e adesso inserisco qua una clip video. Le clip video si possono trascinare direttamente qua, se avete la cartella portata di mano, oppure potete fare file, importa e si apre lo sfoglia. Quindi gli date direttamente da qua il file video. Ad esempio clicco qua, ok, qui ho anche più di un file ed ecco che adesso ci importa il file. Adesso, attenzione, io trascino uno di questi due qua dentro in timeline ed ecco cosa succede. È stata creata una sequenza, eccola qui, con le impostazioni del video, quindi faccio tasto destro, proprietà e vedete 1080p, quindi 1920x1080 a 25 fps che era il filmato, a posto, perfetto. Quindi ci siamo risparmiati la creazione che vi ho mostrato precedentemente, però ve la volevo comunque mostrare. Quindi ricordatevi la cosa più veloce e migliore che potete fare è inserire per primo in timeline il filmato che deve dare le impostazioni a tutto il progetto. Se non c'è, se voi volete per forza avere un progetto che differisce dalle impostazioni della vostra clip, allora dovete per forza fare tasto destro, nuovo elemento, sequenza e agire come abbiamo visto in precedenza. Quindi dandogli tutte le impostazioni qua, personalizzando tutto quanto. Bene, allora questa è la timeline dove faremo l'editing video, quindi questa è la clip che abbiamo appena inserito. V vuol dire video, quindi queste sono le tre tracce video, possiamo aggiungerne altre, poi non vi preoccupate. Queste sono tre tracce audio, quindi questo è l'audio del video. Il video adesso è collegato all'audio, possiamo scollegarlo quando vogliamo. Ma lo vedremo bene nella parte dedicata alla timeline, voglio fare le cose con calma perché voglio spiegare bene questo programma e voglio che possiate imparare poche cose per volta. Perché dire tutto adesso potrebbe essere controproducente. Quindi, a sinistra abbiamo la sezione dei file, quindi qua possiamo importare tutte le varie clip. Le trasciniamo portandole verso destra. Questo simbolino azzurro vuol dire che la clip è stata già inserita in timeline, quindi vedete questa è bianca, ma se io la prendo e la inserisco qui e clicco diventa blu. Quindi questo è molto utile quando avete un grandissimo numero di file, clip video, foto, audio, ovunque c'è questo simbolino che vi fa capire se avete già inserito in timeline o no il video. Se adesso vado qua e faccio tasto cancio del della tastiera, eliminandolo, clicco qui e vedete che è sparito il simbolino blu. Adesso è tornato bianco, ovvero non è più inserito in timeline. Questa qui è la barra che ci indica il punto selezionato. Questo è il tempo in secondi. Questi sono gli strumenti veloci e utili della timeline. Questo è per selezionare, attenzione. Questa è la taglierina, lo strumento più fondamentale forse insieme al seleziona. La taglierina ci consente di dividere la clip, noi scegliamo il punto, clicchiamo, ripremiamo qua ed ecco che abbiamo staccato la clip. Facendo modifica annulla possiamo annullare le modifiche. Ancora modifica annulla, modifica annulla, sì perché ho fatto vari spostamenti. Modifica annulla, ecco fatto. Oppure anche ctrl z. Possiamo tornare avanti con modifica ripristina modifica. Quindi come in qualsiasi programma il modifica annulla e ripristina è qua presente. Poi abbiamo anche il taglia, copia e incolla che funziona nello stesso identico modo di altri programmi. Quindi selezioniamo qua ad esempio modifica, copia. Clicchiamo qua col selettore, modifica, incolla. E qua abbiamo incollato. Oppure cancio. Selezioniamo modifica, taglia, per tagliare. Modifica, incolla. Quindi queste sono le primissime cose che vi mostro adesso in timeline. Poi, allora questa è l'anteprima. Cosa molto importante, se il vostro computer va a scatti, cioè ovvero se la preview va a scatti quando fate play, provate a peggiorare la qualità. Ad esempio massima vi garantisce la massima qualità nell'anteprima. Se vi va a scatti allora cliccate qui e scegliete un mezzo oppure un quarto. Quindi quando farete play, ora qui metto in muto l'audio. Quando farete play troverete una qualità peggiorata, ma se stoppate la qualità torna, vedete, ad essere a posto. Ma questa non vuol dire che il filmato vi uscirà con questa qualità. Semplicemente la state peggiorando temporaneamente per vederla in play. Quindi è la prima cosa da fare se il vostro computer va lento. Poi ce ne sono altre di cose che possiamo fare. Possiamo fare il rendering facendo diventare questa barra da gialla a verde. Però questo lo vediamo poi in un'altra parte. Questi sono i comandi per fare play. Per tornare indietro di un fotogramma. Qua per andare all'attacco. Qua in fondo si chiama vai all'attacco, vai allo stacco, mi pare. Sì, vai a stacco. Ok. L'attacco e stacco lo possiamo decidere noi con questi due simbolini, ma meglio vederlo poi in un altro video. Qua ci sono altre funzioni che possiamo abilitare. Cliccando su uno dei video, ecco, che in controllo effetti si abilita la sua relativa sezione. Che ci consente di modificarne la posizione, la scala, la rotazione e tante altre cose. L'audio relativo, quest'audio relativo a questo filmato. Se clicco qua, attenzione, è un'altra clip. Quindi questi effetti sono relativi a questa clip. Qua c'è il mixer delle tracce audio, il mixer della clip audio. Sorgente. Qua invece abbiamo browser multimediale per sfogliare direttamente dal nostro hard disk qua dentro. Qua c'è info. Quindi se clicchiamo su una clip abbiamo delle informazioni su una clip. E qua abbiamo la sezione degli effetti, importantissima quando vogliamo applicare degli effetti. Poi ci sono altre finestre che stanno tutte qua. Qua, vedete, queste selezionate sono le finestre che sono già presenti in questa interfaccia. Quindi se vi sparisce una finestra, non abbiate paura, andate qua in finestra e cercatela. Vi basta riabilitarla con un clic. Ad esempio, grafica essenziale non c'è. Lo clicco. Ed ecco qua che appare. Vado qua su queste lineette, faccio chiudi pannello ed ecco che grafica essenziale sparisce. Ma lo posso riabilitare quando voglio qua in finestra. Quindi ricordatevi, questo è molto importante perché molte persone mi chiedono mi è sparita una finestra, come faccio? Allora dovete per forza tornare qua dentro e cliccarla. Se non ve la ricordate, provate una alla volta fino a che non la trovate. Detto questo, allora altra cosa importante. Il progetto l'abbiamo già salvato come tutorial. Qua in file possiamo scegliere di salvare il progetto. Quindi se faccio un clic viene sovrascritto il progetto. Se faccio file salva con nome ci si apre una cartella. E ci chiede come vuoi salvare il nome progetto. Quindi possiamo duplicare il progetto. Magari noi abbiamo fatto adesso una modifica. Non vogliamo sovrascrivere il progetto tutorial. Lo chiamiamo tutorial 2. Per salvarlo come un altro progetto. Il progetto ha istensione prproj. Che sarebbe il file di progetto che si apre in Adobe Premiere Pro. Quando poi chiudete e riaprite, il file si ricorda dove sono localizzate tutte le clip. Quindi se voi, per sbaglio, spostate un file video, un file audio, un'immagine da una cartella a un'altra e ancora non avete finito il progetto e lo riaprite, Premiere vi dirà che non trova più un file. Quindi vi chiederà dove è stato spostato. C'è la funzione individua file. Voi cliccate lì e gli date la cartella nuova dove avete inserito il file. Se l'avete cancellato invece non c'è niente da fare perché se è cancellato il file viene perso. Quindi qui in timeline troverete una clip mozzata, ovvero che manca la sorgente. Quindi per questa prima parte è tutto. Abbiamo visto l'interfaccia, abbiamo parlato delle prime cose fra cui la creazione di una nuova sequenza e l'inserimento della clip in timeline. Nella prossima parte ci concentriamo sulla timeline. Un saluto a tutti.